Funziona, funziona, almeno per chi lo fa, anche per uno spettatore, se davanti a oggi un'opera, come può essere la vita, uno ci sta bene, davanti a questo quadro ci sto bene, perché? Le spiegazioni sono infinite, però la sintesi qual è? Mi piace, e perché? Perché ci sto bene, io con questa donna, come ci sto alla fine? Ci sto bene, non vuol dire che mi piace, non vuol dire che la scelta è giusta. Grazie 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 Grazie